Ok, tu, sulla scheda che ci ha portato Mattia... Dimmi, quindi un disastro terribile. Sì, sì, almeno giochi. Ma dai, è abbastanza vero. Mi piace molto, ma fate voi da piccoli. Chantal, tu hai mai giocato a questa cosa? No, guarda, il Zanzare è a morte, anch'io. Ok, tu, sulla scheda che ci ha portato Mattia... Dimmi, quindi un disastro terribile. Sì, sì, almeno giochi. Ma dai, è abbastanza vero. Mi piace molto, ma fate voi da piccoli. Chantal.